Dov'è, ho accettato la principessa decaduta, ho accettato la scorcia cadaveri, ho accettato anche queste due nuove, signorina no, e miss perfettina, e ho accettato anche il professore. Il sexy prof. Una sola cosa ti ho chiesto. I maschi in convento? No! Vabbè, il maschio vale anche per bambino? Un bambino? Forcostanza, forcostanza! Quei Dio ci aiuti. Che Dio ci aiuti. I nuovi episodi, prossimamente, su Rai 1.